Parla fan azzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre stato attento ai migliori talenti emergenti italiani ed esteri. La società partenopea e il settore scouting hanno i radar accesi su diversi sodalizi e sui virgulti in via d'esplosione. Nelle ultime ore si sta facendo largo un nome nuovo per il prossimo mercato estivo del club. Cristiano Giuntoli ed i suoi collaboratori sono alla ricerca di prospetti di qualità che possano consacrarsi con la maglia partenopea addosso, per il presente, ma soprattutto per il futuro, come riporta TMV. La buona prima parte di stagione ha acceso il mercato su Mattia Felici, esterno sinistro classe 2001 della Triestina, finito nel mirino di diverse squadre. Il calciatore, che anche il Napoli sta osservando, ha mosso l'interesse di Modena, Cagliari e Venezia, pronte ad accompagnarlo nel salto di categoria e portarlo in Serie B. Da superare però il muro eretto dalla Triestina, che non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore vista la sua importanza all'interno della Rosa per la lotta a salvezza. Ehi fan di Azzurra! Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.